Ci sono sia Sant'Agata che Santa Rosalia, Santa Venera, San Sebastiano, Santa Lucia, Santa Rita e ovviamente non poteva mancare San Nicola. Non si tratta di un calendario ma dell'album dei Santi, un approccio innovativo per fare catechesi ai più piccoli ma che ha destato la curiosità anche dei grandi all'interno della parrocchia di San Nicola nella frazione di San Nicolò del comune di Acicatena. A spiegare l'obiettivo di questa iniziativa è lo stesso parroco Don Stefano Panebianco. L'obiettivo innanzitutto è quello di offrire ai bambini e ragazzi della catechesi degli strumenti perché possano conoscere delle figure veramente significative non solo della storia della Chiesa ma anche della storia delle nostre comunità, quali sono proprio i Santi che con la loro vita, con le loro opere, con le loro scelte, con la loro fede, hanno dato un impulso positivo nella costruzione delle nostre comunità. Per collezionare le immagini dei Santi bisogna solo partecipare alla messa del sabato alle ore 18 o della domenica alle ore 9.30, ore 11 oppure la sera alle ore 19. È la stessa Chiesa che provvede a distribuire le figurine e l'album per la raccolta. Oltre a quello dei Santi esistono anche le versioni che riguardano i personaggi biblici, la Terra Santa e la parrocchia. I principali destinatari sono i bambini tra i 6 e i 12 anni. Un riscontro forse che all'inizio non l'avevamo previsto perché abbiamo richieste delle figurine non solo nell'ambito della nostra comunità parrocchiale ma anche da altre comunità parrocchiali. Quindi un riscontro molto positivo vuol dire che è un'idea affascinante. Tutto viene organizzato in parrocchia ma l'iniziativa ha già attirato l'attenzione di altre realtà al punto che lo stesso parroco è stato contattato dal Veneto, dall'Abruzzo e dall'Umbria. 48 figurine per ogni raccolta. La prossima che verrà distribuita sarà quella di San Michele Arcangelo anche se tra i personaggi introvabili c'è Zaccheo. La figurina più ricercata è difficile rispondere a questa domanda perché a volte capita che delle figurine per motivi non previsti siano in produzione minore rispetto ad altre e allora diventano veramente ricercate ma poi riusciamo comunque a dare a tutti coloro che attendono la figurina attesa perché possano completare l'album. Grazie. Grazie. Grazie.